E no! Il distrito qui rappresentato è una scena in cucina che si concentra in particolare sulle persone che stanno lavorando per far sì che il banchetto si svolga al meglio. Possiamo incontrare sulla destra e in basso due ragazzi che stanno flortando, ignorando completamente il lavoro che devono fare e dietro a una ragazza una bambina che sta cercando qualcosa in un calderone. Probabilmente sta giocando. Al centro della scena si incontra una ragazza intenta a infilare un pesce in uno spiedo dove è già posto un maiale e in diagonale rispetto a lei incontriamo un'altra donna intenta a preparare il pesto. Infine, sulla sinistra, all'altezza degli occhi si riscontra la presenza di un pescivendolo o comunque di un uomo che sta preparando accuratamente del pesce. La scena intera è resa con un grande realismo e gli atteggiamenti dei personaggi sono particolarmente realistici così come i colori, particolarmente luminosi. E... fine. Va. Grazie.